Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio, what's up e buona serata da vivere nuovamente. Ancora una meravigliosa cornice a Milano con dei splendidi riflessi di luce sotto l'arco della pace. Una meraviglia ragazzi. Passeggiavo qui nei dintorni di Milano che è magicamente vuota, ci dà questo grande dono a seguito di una frenesia di direi 360 giorni. E allora mi è venuto in mente di fronte a questa prospettiva magnifica, di fronte a questo ordine, il concetto di crescita, di costruzione, di accrescimento che va contro il senso di carenza. Allora mettiamoci un'intenzione oggi, un sankalpa come si dice in sanscrito nella pratica di yoga nidra. Cerchiamo a questo punto di accrescere domani e ancora per 365 giorni il concetto di evoluzione, di accrescimento, tralasciando la carenza, tralasciando il bisogno, tralasciando la sussistenza dagli altri. E coltiviamo invece l'autonomia, l'autosufficienza che sarà il booster per andare avanti nella nostra vita. Brevissimo ma intenso, un grande augurio, non so se domani, probabilmente domani ci vedremo, ma sarà un po' sporadica la mia presenza, quindi ne ho approfittato oggi per farvi tanti auguri, per abbracciarvi, ringraziarvi per la lezione magnifica al Centro Sperauti Yoga a Milano e come vedete siamo qua di fronte al freddo di sera per una nuova giornata domani da vivere nuovamente. Io vi abbraccio, namaskar e ricordatevi accrescimento contro carenza. Ciao ragazzi!